Terremoto Salvini, il governo aiuterà il Molise. Il vicepremier e ministro dell'interno in una intervista delle Molise ha ribadito il sostegno dell'esecutivo riguardo il sisma e l'emergenza viabilità. Terremoto in diversi dormono nelle tende a cui Onesi ha allestito un campo per ospitare le persone. Criticità a Larino. Continuano le scosse. A Montecilfone chiuso il serbatoio lesionato. Sisma e liscione controlli in atto. 35 sindaci scrivono a Conte. Vigili del fuoco, Forza dell'Ordine e Protezione Civile, all'opera per garantire la sicurezza nei comuni del cratere. Gian Russo ha fatto il punto. Chiesti interventi urgenti per il viadotto sull'invaso. Isernia, comitato scuole sicure, chiede verifiche urgenti. Le strutture risalgono agli anni 60, ha detto. Richiesto un consiglio provinciale per soluzioni veloci. Per il polo di Agnone raccolta firme per un intervento di Mattarella. Calcio Serie D, rinviato preliminare di Coppa Italia. Non si giocano le partite di domani. Il Campopasso prosegue la preparazione, così come le altre squadre di Serie D. Buongiorno, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Dunque in primo piano ancora il sisma sulle difficoltà del Molise causate dall'ennesimo terremoto e sulla grave situazione della viabilità è intervenuto infatti il Vice Premier, nonché Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta telefonica su Tele Molise. Il Governo aiuterà la vostra regione, ha detto tra l'altro il capo politico della Lega. Ce ne parla in questo servizio Giovanni Minicozzi. Solo un attimo, il servizio sta per partire. Sull'emergenza terremoto e sulla tragica situazione della viabilità molisana abbiamo intervistato telefonicamente il Ministro dell'Interno, nonché Vice Premier Matteo Salvini. Il Governo aiuterà il Molise, ha detto tra l'altro Salvini. Siamo Ministro, grazie al suo intervento, forte sisma nel Molise, 10 comuni interessati, 1.268 le richieste di verifica, fatte solo 160. Al momento ci sono 41 casi di inagibilità. Il Governo cosa può fare per questa grave situazione? Innanzitutto ringrazio i soccorritori, i volontari, i professionisti, protezione civile, vigili del fuoco che subito si sono mossi. Ringraziando Dio tanni gravi non ne sono segnalati. Io mi sono messo a disposizione come Ministro dell'Interno, Vice Presidente fin da subito per questioni viabilistiche, per questioni economiche, per questioni dispollati. So che sono in corso di verifica e di attenzionamento alcune strutture stradali, alcuni vedotti, la diga ovviamente, saranno ancora centinaia di immobili controllati. Ci siamo, devo dire che dico ci siamo in attesa di tornare a Genova dove ho passato molte ore di queste giornate purtroppo, però mi sembra che in Molise anche i cittadini abbiano risposto e stiano rispondendo in maniera pronta, in maniera intelligente, in maniera coraggiosa. Quindi qualsiasi cosa servisse, ci sono e ci siamo, ringraziando Dio per il momento pare che non serva più di tanto. Ecco, lei conosce bene i Molise, peraltro so che è stato informato dal coordinatore Luigi Mazzute, parlava della situazione della viabilità, lei la conosceva bene, ora la Bifernina è chiusa, la strada principale per quel viadotto su Liscione, ci sono altri viadotti a rischio, la gente ha paura. Ecco, anche qui il governo come può intervenire secondo lei, soprattutto dopo la tragedia di Genova? Ci sono in questi tre giorni, sono arrivati migliaia di segnalazioni di strutture da verificare, gallerie, ponti, viadotti, tratte ferroviarie, canali, quindi è chiaro che dobbiamo recuperare anni e anni di silenzio, di distrazione, di incuria, di incapacità, le situazioni più gravi le stiamo monitorando, ovviamente qualora ci fosse un rischio verrebbe tutto chiuso e sospeso. A Genova, ad esempio col disastro che è accaduto, però anche qua collaborando col Comune e con la Regione abbiamo già sostanzialmente approntato un piano di viabilità alternativo per aiutare cittadini e lavoratori a continuare a riprendere una vita quasi normale, anche in Molise stiamo dando tramite Prefettura indicazioni di controllare tutte le strutture che vanno controllate, se serviranno interventi economici ovviamente il Governo è pronto a fare la sua parte. Peraltro il nuovo Governo regionale da poco insediato si ha trovato una protezione civile quasi smantellata, quindi anche questo settore è da potenziare. Sì, ma devo dire che anch'io da Ministro sono arrivato al Ministero e ho trovato un piano assunzioni per i vigili del fuoco che sono sempre i primi, i più amati, i più coraggiosi a intervenire in questi casi, di 1.500 in 5 anni, chi ci guarda capisce che non si va lontano con 1.500 assunzioni in 5 anni, stiamo cercando e trovando nei cassetti le risorse disponibili per assumere 1.500 pompieri ma non in 5 anni, in un anno e quindi bisogna recuperare il tempo perso da altri anche in termini di protezione civile però, ripeto, mi sembra che le istituzioni in Molise abbiano risposto fin da subito e i cittadini abbiano capito che qualche sacrificio in momenti come questi è affrontabile, quindi spero che non necessitino ulteriori interventi. Lei pensa di tornare in Molise tra i suoi tanti, tantissimi impegni? Sì, per eventi magari più lieti, per incontrare i cittadini che ci hanno dato come lega e come centrodestra tanta fiducia, per spiegare come stiamo utilizzando questa fiducia dando una marcia diversa e cambiando la gestione dell'amministrazione di Regione Molise, io ricordo tante segnalazioni sulla sanità, sugli ospedali, sulla viabilità, sul turismo, sull'agricoltura e quindi sto raccogliendo dei dati positivi e spero di venire quanto prima a confrontarli con i molisani che ci hanno dimostrato un affetto e una disponibilità che non mi sarei mai aspettato. Intanto vuole dire qualcosa ai molisani in questo momento di difficoltà? Temer duro e dimostriamo che l'Italia va avanti nonostante tutto e nonostante tutti, in questi giorni sono stato in Sicilia, sono stato in Calabria, sono stato in Toscana, sono stato ovviamente più e più volte a Genova, ci si rialza, ci si rialza però con l'impegno ovviamente non riguarda il terremoto perché qua siamo nelle mani del buon Dio, però per quello che riguarda Genova lo dico ai genovesi, ai molisani e agli italiani tutti, chi sbaglia paga, non è più tempo delle impunità, c'è gente che non sa fare il suo lavoro e poi causa morti e causa feriti, chi sbaglia paga per quello che mi riguarda. In quel caso si va verso la revoca della concessione alla società autostrade? Un'azienda che incassa miliardi di Euro di pedaggi dai cittadini che vanno ai caselli e poi sotto la cui gestione permette che cadano 400 metri di autostrada per la morte di decine di persone e evidentemente non ha fatto tutto quello che poteva fare. A Guglionesi al momento la situazione è più difficile con quasi 200 persone che hanno passato la notte nella tendopoli che è stata allestita vicino allo stadio. Servono beni di prima necessità, l'appello del sindaco Mario Bellotti. Intanto a Montecilfone il sindaco Franco Pallotta ha deciso di chiudere il serbratoio dell'acqua lesionato, mentre a Larino preoccupano alcuni palazzi in contrada a Monte Arcano. Lesionato anche il campanile della chiesa di Santo Stefano. Il servizio è di Manuela Iorio. Siamo a Guglionesi, nello spazio proprio vicino al campo sportivo dove è stata allestita la tendopoli della protezione civile. 20 tende sono arrivate ieri sera, altre tre sono state spostate da un altro punto di raccolta e portate qui. È stata anche allestita una cucina da campo e Guglionesi è il centro più colpito dal terremoto. Ci sono state oltre 400 richieste da parte dei cittadini di sopralluoghi per le case lesionate. Questa è stata la vera prima notte in tenda, la situazione non è facile. È stata la prima notte in tenda per quasi 200 cittadini di Guglionesi che hanno preferito non tornare nelle proprie case. La colonna mobile della protezione civile è arrivata qui con il necessario attraversando il viadotto del Liscione che è stato riaperto con un'autorizzazione speciale per consentire ai mezzi di arrivare il prima possibile. A coordinare il campo c'è il funzionario della protezione civile Angelo Del Gesso. Abbiamo allestito questo campo che è uno dei più grossi in questo momento anche perché negli altri comuni abbiamo solo due o tre tende montate in base a quello che ci hanno chiesto i sindaci. Qui attualmente abbiamo montato 20 tende per un totale di 200 sfollati. Il sindaco ha garantito la mensa scolastica per la somministrazione dei pasti che verrà gestita anche nei prossimi giorni dai nostri volontari, dai cuochi professionisti. Garantiamo poi i servizi igienici e quindi tutta l'assistenza possibile agli sfollati che attualmente sono quelli che più che altro stanno in attesa delle verifiche dettagliate e in attesa di rientrare o meno nelle proprie abitazioni. Qui tra le tende che possono ospitare fino a 12 persone ci sono famiglie con bimbi piccoli ma soprattutto anziani, alcuni dei quali non hanno più una casa. Come avete passato la notte? Eh cara mia, con la porra del terremoto, sono senza casa, siamo qua e grazie a Dio che sono viva. La sua casa ha avuto lesioni? Sì. Lei dove abita? Io abitavo in Campania veramente, tra Cuglionesi e Monte Cilfone, però la mia casa è molto lesionata, non ci posso andare più, sono senza casa. E solo lei? Io e mio figlio. In tenda siamo stati bene, bene perché hanno sistemato tutto, coperte, diciamo che la notte più tranquilli rispetto a casa sicuramente. La sua abitazione ha avuto delle lesioni? Per fortuna no, però diciamo ci siamo rivolti un po' a loro per il discorso dei bambini, così insomma per farli stare un po' più tranquilli. I bambini ho visto che un po' giocano, corrono, è giusto, loro devono stare spensierati? Per fortuna sì, per fortuna sì, loro sono più tranquilli qui sicuramente. A Guglionesi sono state chiuse alcune strade come parte di via San Martino dove il crollo di un cornicione ha sfondato il tetto di una punto parcheggiata. La casa è disabitata e i proprietari vivono in Canada, ma ci sono anche altre zone transennate del paese. Il sindaco Mario Bellotti ha allestito in comune il centro operativo per coordinare tutti i soccorsi. La tentopoli è stata allestita allo stadio comunale, presso lo stadio comunale dove c'è un piazzale antistante molto ampio, stiamo concentrando un'unica tentopoli lì per una migliore organizzazione di questo evento. Quante richieste di intervento, di sopralluoghi avete avuto? Ad oggi mi risultano più di 400 richieste di intervento, di cui la metà sono state già fatte e sto aspettando il primo resocondo, il primo step da parte dei Vigili del Fuoco. Di cosa c'è bisogno a Guglionesi? Abbiamo attrezzato con la nostra cucina, con la nostra mensa scolastica, utilizziamo la nostra cucina, però abbiamo bisogno di viveri, di generi alimentari, principalmente di quelli al momento. I cittadini hanno paura nella notte, altre due scosse, quella più forte di Magnitudo 3.3, poco prima del luna con epicentro sempre a Monte Cilfone, dove da ieri in paese è arrivata la stazione mobile anti sciacallaggio dei Carabinieri e dove il sindaco Franco Pallotta ha deciso per lo svuotamento del serbatoio dell'acqua, rimasto lesionato e ha chiesto la fornitura di acqua attraverso le autobotti. A Larino anche ci sono circa 300 richieste di sopralluoghi e molti cittadini continuano a dormire all'aperto al campo sportivo o in palestra sulle brandine. La situazione più compromessa al momento è in un palazzo di tre piani di Contrada Monte Arcano, dove la scossa delle 20 e 19 del 17 agosto ha aperto una profonda lesione proprio al piano terra dell'edificio. Nel centro storico anche via Marconi è stata transennata, sono state individuate delle crepe anche sul campanile della chiesa di Santo Stefano. La consigliera regionale della Lega Filomena Calenda si è recata sui luoghi del terremoto per portare la sua solidarietà, che va, ha detto, anche a tutti gli operatori turistici ed economici del Basso Molise che in queste ore dovranno fare i conti con le conseguenze del terremoto. Una economia ha concluso su cui incide la caotica situazione che si è creata tra maltempo e sisma. Va avanti intanto senza sosta l'opera dei vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile per garantire la sicurezza ai cittadini dei comuni del cratere sismico. Giuseppe Gerrusso, direttore del Dipartimento IV della Regione, ha fatto il punto della situazione anche alla luce della riunione della Commissione Grandi Rischi, il servizio di Anna Maria Di Matteo. Proseguono a ritmo serrato le verifiche sugli edifici pubblici e privati danneggiati dalle due scosse di terremoto che hanno gettato di nuovo il Molise nel panico. Nell'area del cratere sismico, che attualmente comprende dieci comuni, vigili del fuoco e protezione civile, sono al lavoro per garantire sicurezza alla popolazione. Un lavoro che va avanti senza sosta. Noi abbiamo organizzato quelli che erano i comuni che maggiormente ci hanno fatto richiesta per quanto concerne assistenza alla popolazione. A Guglionisi abbiamo restito un campo, apriremo oggi la cucina in modo da dare anche assistenza alla popolazione. Gli altri comuni che hanno richiesto i denti sono state esaurite. Adesso faremo fronte alla seconda parte dell'emergenza anche per altri comuni che ci faranno ulteriori richieste. Da Larino il sindaco Puchetti ha lanciato l'allarme, la situazione è abbastanza difficile e ha detto che la protezione civile non è stata particolarmente efficiente in quel comune. Larino deve fare il suo, il sindaco Puchetti deve fare il suo. Il com a Larino ancora non è aperto oggi, quindi ufficialmente noi non abbiamo una struttura che ci fa richieste. Quindi io non voglio fare polemiche. Oggi, ieri abbiamo preferito mandare una squadra per ogni comune in modo che tutti i sindaci avessero un supporto tecnico. Oggi le squadre sono state rinforzate, il comune di Larino più grande ha cinque squadre, quindi a Larino oggi lavoreremo di più rispetto agli altri comuni. In questione continuano ad arrivare richieste di sopralluoghi? Sì, continuano, stanno continuando anche perché è un sisma in atto e quindi credo che delle lesioni continueranno ad esterci fino a che non si calmerà. Siamo in perfetta sintonia con i Vigili del Fuoco e quindi agiamo in sintonia per non ripeterci e per non fare gli stessi sopralluoghi. Lei ha partecipato in videoconferenza alla riunione della Commissione Grandi Rischi. Che cosa è venuto fuori? È venuto fuori quello che ci attendevamo, che era una zona non studiata sismicamente, che ha avuto un'attività sismica e quindi la Commissione ci richiama particolare attenzione per il semplice fatto che la zona non era una zona sismica e oggi è diventata sismica. La Regione oggi, il Presidente credo che manderà una nota a tutti i sindaci con la quale manderà la nota della Commissione dei richiami fatta dalla Commissione Grandi Rischi. I sindaci si dovranno adeguare a tale richiamo. Ecco, come sta funzionando intanto il raccordo tra la vecchia protezione civile e Pitassi? Beh, purtroppo c'è stata un'emergenza nell'emergenza. Io sono capo del quarto dipartimento sotto cui c'è anche la protezione civile. Io faccio il raccordo e l'organizzazione del dipartimento. Oggi purtroppo devo governare anche la protezione civile. Il dottor Pitassi ha avuto un problema personale. Oggi mi tocca dirigere anche la protezione civile. Certo, devo dire che la situazione trovata non è quella che mi aspettavo. Io avevo lasciato una protezione civile che era la prima protezione civile in Italia. Oggi forse abbiamo i mezzi a stendo per gestire questa prima fase dell'emergenza e non per gestire un'emergenza che, voglio ricordare, è avvenuta nella nostra regione e non in altre regioni. Intanto sono iniziate nella tarda mattinata le verifiche tecniche e strumentali sui due viadotti che sovrastano l'invaso del Liscione. Lo ha detto a Lanza l'ingegnere Massimo Pillarella, responsabile del Dipartimento Territorio della regione Molise. Controlli eseguiti dall'ANAS attraverso una piattaforma speciale, la Buy Bridge, che permette di verificare le condizioni della parte sottostante alle campate dei punti e della sede stradale. I controlli riguardano, nello specifico, i viadotti Molise 1 e Molise 2, lunghi complessivamente oltre 7 chilometri. I primi risultati parziali dovrebbero arrivare entro domani. E sempre riguardo al viadotto Liscione, 35 sindaci si mobilitano per interventi immediati. Il sindaco di Petrella di Fernina, Alessandro Amoroso, scrive al presidente Conte e ai ministri competenti. Coinvolta anche la delegazione parlamentare molisana. Sentiamo in proposito Tonino Danese. Viadotto del Liscione osservato speciale è la diga dopo gli eventi sismici e la tragedia di Genova. Sull'arteria è l'invaso e i controlli da parte di Molise Acque, ANAS e Vigili del Fuoco, che hanno dato rassicurazioni sull'assenza di criticità. Ma 35 sindaci si sono mobilitati per interventi immediati sulla struttura. Il primo cittadino di Petrella, Tifernina, Alessandro Amoroso, si è fatto portavoce di tutti gli altri e ha scritto al premier Conte, ai ministri dei trasporti e infrastrutture dell'interno, di economia e finanza, al governatore Toma e all'assessore ai trasporti e infrastrutture, nonché alla delegazione parlamentare molisana e per conoscenza al prefetto. Ha voluto focalizzare l'attenzione su un viadotto costruito in cemento armato oltre 50 anni fa in una zona rischio sismico, alto 60 metri, su un invaso tra i più grandi d'Europa, capace di raccogliere 173 milioni di metri cubi. Amoroso chiede che venga destinata parte dei circa 100 milioni di euro, annunciati dal ministro Tria come spendibili immediatamente, per effettuare controlli strumentali, sofisticati sull'infrastruttura del Liscione e per realizzare eventuali opere di consolidamento. Il primo cittadino di Petrella, Tifernina, si è fatto dunque portavoce anche di sindaci di Busso, Campochiaro, Casa Calenda, Casa Alciprano, Castellino sul Biferno, Castropignano, Cerce Maggiore, Civita Campomarano, Civita Nova del Sannio, Fossalto, Guardia Alfiera, Guardia Reggia, Guglionesi, Ielsi, Larino, Limosano, Macchiavalfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Montemitro, Pietracupa, Providenti, Ripa Limosani, Rotello, San Giuliano del Sannio, Sant'Angelo, Limosano, Sant'Elena Sannita, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Toro e Vinchiaturo. Nella lettera ha chiesto anche di verificare nel minor tempo possibile le attività di manutenzione fino ad ora eseguite sul viadotto del Liscione e quelle da eseguire ancora. Dopo tre anni a Poggio Sannita è stata riaperta al culto la chiesa di San Rocco risalente al XVII secolo interessata da lavori di ristrutturazione. In tanti hanno partecipato alla cerimonia presiduta dal Vescovo di Trivento, Monsignor Claudio Palumbo. Oltre a congratularsi con quanti si sono adoperati per la riapertura dell'edificio di culto, il Vescovo ha invitato le famiglie e i bambini in particolare a visitare e frequentare la chiesa. Il parroco Don Paolo, nell'esprimere gratitudine alla comunità poggese, ha comunicato che la chiesa, trovandosi in una posizione più comoda rispetto alla chiesa madre, sarà utilizzata per le funzioni nei giorni feriali. Cambiamo argomento su iniziativa del gruppo Nuovo Sogno Agnonese. Oggi è stata promossa una raccolta di firme per chiedere un intervento al Presidente della Repubblica, Mattarella, affinché vengano completati i lavori del nuovo polo scolastico di Agnone. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Nonostante le rassicurazioni del Sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio, che ha parlato di fondi accreditati sul conto del Comune e dell'ormai imminente riavvio dei lavori, il gruppo di minoranza Nuovo Sogno Agnonese non si fida e continua a fare pressing affinché si giunga in tempi rapidi al completamento del polo scolastico nel quartiere Maiella. Dopo il sopralluogo nell'edificio nel mese di maggio e dopo il recente confronto in Consiglio Comunale, la minoranza ha deciso di rivolgersi con una lettera appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnata dalle firme raccolte tra i genitori. Per completare l'opera manca davvero poco, ma i lavori si sono fermati proprio per via dei ritardi nei pagamenti alla ditta incaricata di eseguire l'intervento. Mancano 78 mila euro al completamento di quest'opera, davvero delle risorse economiche irrisorie, quindi noi dobbiamo fare un piccolo sforzo, tutti gli attori istituzionali di questa vicenda, dalla Regione al Comune e anche al corpo docente, affinché si arrivi a chiudere i lavori nel più breve tempo possibile e mettere i nostri ragazzi in questa scuola sicura e visto anche gli ultimi eventi che si sono verificati in Molise, questo ci deve fare ancora di più pensare e fare ancora più velocemente per concludere i lavori di questa scuola. Ad Agnone le scuole sono fatiscenti, ribadisce con forza Novo Sogno Agnonese, e più tempo passa e più quella che fino a qualche mese fa sembrava solo un'ipotesi potrebbe diventare una certezza, e cioè che il nuovo anno scolastico non comincerà nel nuovo polo di Maiella. Non riesco a capire come sia possibile che una cosa del genere possa produrre un ostacolo alla realizzazione di una grande opera, però purtroppo la situazione è questa, che al suonare della campanella a settembre gli alunni di Agnone non potranno soffrire di una scuola nuova, moderna e sicura, ma dovranno tornare in scuole che evidentemente non solo hanno problemi di vulnerabilità sismica, ma sono delle scuole ormai che stanno al limite della fruibilità, e questo è il fatto più grave, cioè una scuola quasi pronta e gli alunni costretti a entrare e ritornare a scuole del tutto fatiscenti. Poi c'è stata anche l'aggravante che la terra continua a tremare e quindi il terremoto, e noi l'abbiamo sempre detto, non avverte nessuno. Intanto anche il Comitato Scuole Sicure per Isernia torna a far sentire la propria voce, chiedendo ancora una volta verifiche urgenti sugli edifici scolastici di competenza della provincia, risalenti agli anni 60. Chiesta anche la convocazione di un consiglio per trovare soluzioni alternative in tempi rapidi. Sentiamo ancora Di Vincenzo. Procedere urgentemente con le verifiche sugli istituti superiori della provincia di Isernia. Questo è il succo dell'ennesimo appello del Comitato Scuole Sicure e della Consulta Provinciale degli Studenti rivolto al presidente dell'ente di Via Berta, Lorenzo Coia. In verità, ha spiegato la portavoce del Comitato, Sandra Marcucci, già ad aprile avevamo chiesto tutta la documentazione relativa agli istituti scolastici, senza però ottenere alcuna risposta, se non un accenno a un bando per i fondi per le verifiche strutturali. Ebbene, dice ancora, se questi soldi sono stati stanziati è arrivato il momento di utilizzarli. E' in fretta, perché l'inizio dell'anno scolastico si avvicina e il terremoto di questi giorni impone un controllo alle strutture che, è bene ricordare, risalgono agli anni 60. Genitori e studenti si appellano al senso di responsabilità del presidente Coia, chiedendo, oltre alle verifiche necessarie, anche la convocazione di un consiglio provinciale sulle scuole, per illustrare a tutti gli interessati le criticità, i progetti e la tempistica di soluzioni chieste ormai da troppo tempo. Intanto, dall'ente di Via Berta, arrivano le prime risposte. Nei prossimi giorni, ha assicurato il consigliere delegato alle infrastrutture, Mike Matticoli, saranno effettuati controlli su tutti gli edifici scolastici di competenza della provincia. Nel frattempo si sta procedendo con le verifiche sulla rete stradale e in particolare sui viadotti. Per ora non sono emersi danni. L'unica grande criticità, ha detto ancora Matticoli, deriva dalla carenza di manutenzione ordinaria, di fatto inibita dai pesantissimi tagli operati negli ultimi anni dal governo. Del resto, la situazione in cui versa il viadotto del Verrino è sotto gli occhi di tutti e purtroppo questo non è un caso isolato. Anche i consiglieri nazionali dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Cimino e Cosimo Santimone, esprimono vicinanza alle tv locali per le modifiche alla graduatoria dei contributi previsti dal decreto 1000 proroghe. Siamo convinti, spiegano, che sia in atto un tentativo di delegittimare l'intero assetto delle tv locali molisane, che mette a rischio il diritto all'informazione e con esso posti di lavoro, pluralismo e rispetto di una regione intera. A nostro avviso la graduatoria è farlocca e bugiarda, si basa su principi e requisiti non riconosciuti dalle norme. Per questo, concludono Cimino e Santimone, siamo pronti a lottare in ogni sede insieme ai giornalisti e agli editori. Al via la tredicesima edizione della Browen Fest al Queen Valley di Frosolone, tre serate all'insegna dei sapori bavarisi. Vediamo com'è andato il primo appuntamento insieme a Valeria Farina. I gusti della Baviera e il sapore deciso della birra tedesca arrivano in Molise, una a tre giorni all'insegna del divertimento e del buon cibo al pub Queen Valley di Frosolone. Il locale da 13 anni d'appuntamento dopo ferragosto agli amanti del cibo tedesco e della birra per regalare divertimento e relax durante le sere d'estate. Dallo stinco di maiale al pollo con i crauti ad una variegata scelta di viuster con le patate da gustare con l'immancabile bionda tedesca. Tanta musica e DJ set fino all'alba. Per queste tre serate noi proponiamo dei piatti tipici bavaresi cominciando appunto dal classico stinco di maiale. Il classico stinco che tutti gli anni proponiamo appunto perché è conosciuto e tutti gli anni vogliamo riproporre quelli che sono i gusti classici accompagnando dalle patate al forno e dai crauti. Abbiamo proposto un'alternativa, cioè il cosciotto di pollo con classici viuster bavaresi sempre accompagnato da patate al forno e crauti. Noi staff del Queen Valley sono tanti anni che proponiamo la classica birra HB perché è un tipo di birra molto particolare che riscuote successo tra i giovani e non solo anche fra le altre persone appunto per il suo sapore di qualità e di freschezza. Apprezzamento ed entusiasmo da parte dei partecipanti. L'appuntamento Queen Valley di Frosolone continua anche stasera e domani a partire dalle 20 al pub situato nella zona industriale Fresilia. Riuscita la sfilata di abiti vintage organizzata alla villa comunale di Santa Croce di Magliano. L'evento, coordinato dal geometra Umberto Persichillo, ha proposto creazioni e accessori della sua collezione personale. In tanti hanno seguito l'iniziativa di moda e costume. Per noi c'è la Fabrizio Occhionero. Eleganza senza tempo è una passione che si consolida per condividere un percorso di riscoperta e ricordi di un passato sempre attuale. Riuscita a Santa Croce di Magliano la sfilata di abiti vintage organizzata dal geometra Umberto Persichillo. Una serata di moda, musica e costume che ha rinnovato creazioni che, nonostante lo scorrere del tempo, hanno conservato funzionalità, caratteristiche, fascino, qualità ed estetica. Per l'ideatore dell'evento una conferma dopo il successo della prima sfilata proposta al centro comunitario. Gli abiti sono una mia collezione che da oltre 20 anni io mi dedico con passione a raccolta di abiti firmati, giro tutta l'Italia per raccogliere questi abiti. Una passione? Sì, una passione ma non sono solo abiti, ci sono anche accessori, borse, collane, cinte, c'è di tutto. Scarpe, tutto ciò che fa vintage. L'iniziativa è stata patrocinata dall'amministrazione comunale, dalla Proloco, dal Comitato Feste e dall'oratorio come un'occasione di incontro, coinvolgimento e riscoperta di usi e costumi, modelle di ogni età che per una sera hanno calcato la passerella della villa comunale. Il vintage è qualcosa di costume e di cultura. Oggigiorno va molto di moda, sono eventi che in Italia si fanno dal centro fino al nord Italia. Non c'è ancora una cultura del vintage nella bassa Italia. Nel Molise è stata la prima volta. Ovviamente sono venute tante persone a vederla e sono rimasti meravigliati perché non credevano all'evento e a tutto ciò che ruota intorno all'evento. Alla riuscita della manifestazione che si apre a nuovi progetti sul territorio ha contribuito Antonella Cerozzi. Quanto me ne ha parlato già dalla prima volta sono subito partito in quarta perché a me piacciono queste cose. È veramente una grandissima, è una bella occasione per tutti. Ah, pensi del vintage? Il vintage io ne vado pazza. È bellissimo proprio, è bello. In confronto ai giorni d'oggi a me piace tantissimo. È proprio innata la cosa in me. Quindi ecco perché mi sono appassionata tantissimo quando il signore Umberto mi ha chiamata a partecipare. Sono stata onoratissima. L'evento è stato seguito dalle telecamere della trasmissione Viaggio in Molise. E adesso un'ampia pagina sugli appuntamenti. L'ottava festa del Morrutto di San Giovanni in Galdo il prossimo 20 agosto si presenta con una formula rinnovata rispetto agli anni scorsi. Il notevole afflusso e il gradimento dei visitatori per le nostre specialità tipiche, ha detto il presidente dell'Associazione Amici del Morrutto Stefano Trotta, ci ha indotto a cercare spazi più ampi come Largo Fiorentini che si trova immediatamente a ridosso del caratteristico borgo che rimane un unicum nel suo genere. Trotta sottolinea che in questo modo si potrà godere la festa in un'ulteriore comodità e sicurezza con le conserte pietanze tipiche e intrattenimento musicale. Il Morrutto, continua il presidente, rimane un simbolo visitabile e godibile che sarà al centro di un'azione di promozione 365 giorni l'anno. Ma gli eventi e le prescrizioni di sicurezza ci hanno indotto a sviluppare la festa in un luogo più ampio. E a San Pietro in Valle, frazione di Frosolone, oggi e domani, Sagra del Tartufo, un appuntamento atteso dai buon custai che nel suo programma offre anche un dibattito sull'argomento e tante specialità caratterizzate al ricercato e apprezzato Tartufo molisano. E manca ormai poco alla ventiquattresima edizione di Frammenti d'Antico. Questo pomeriggio, dalle 17.30, si accenderanno le luci sulla manifestazione che, come di consueto, prevede anche un ricco set di spettacoli. A Bagnoli del Trigno c'è attesa per l'arrivo dell'attore Fabio Fulco che impersonerà il Duca nella sfilata insieme a decine di figuranti in abiti ispirati all'epoca a cavallo tra il XVIII e il XVIII secolo. Saranno oltre 15 i momenti di musica, danza, tradizione e la novità delle farfalle luminose. Mentre sul fronte delle specialità tradizionali ci sono nuovi ingressi nel menù. Tra i momenti clou dell'evento, il ruolo della fata e l'incendio artistico del castello previsto dopo la mezzanotte. Intanto questa sera alle 21 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Frosolone concerto d'organo del maestro Giovanni Petrone. E stasera domani a Caporio, frazione di Macchiagode, la 32esima sagra della Polenta. È una specialità particolare la cui ricetta è stata registrata all'Accademia Italiana della Cucina. Nella versione bianca è condita con baccalà, peperoni e cipolla fritta. Mentre la salciccia sotto sugna è l'ingrediente alla base del condimento al pomodoro. Il tradizionale e suggestivo spettacolo dell'incendio al Castello di Termoli, previsto per oggi dopo un primo rinvio per il maltempo, è stato nuovamente rinviato a domani a mezzanotte su decisione dell'amministrazione comunale in rispetto della giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. E adesso dovremmo vedere una foto, eccola qui, di un metriccio maschio che per giorni ha vagato nei pressi del McDonald di Campobasso finché qualcuno non lo ha segnalato. E ora si trova al canile di Santo Stefano. È sicuramente un cane di appartamento, perduto o abbandonato. avrà tre anni, non è dotato di microchip, ma ha un collare rosso con brillantini. Gli animalisti chiedono se qualcuno lo riconosca o in alternativa un'adozione urgente perché temono che in canile non sopravviva. Chi avesse notizie può contattare, come sempre, la nostra redazione. Bene, con questo appello terminiamo l'edizione delle 14 del telegiornale. Adesso le previsioni del tempo, poi la pagina sportiva. Grazie dell'attenzione. Adeteci. Grazie a tutti.